Benvenuti a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Maullo941 e siamo tornati su un nuovo episodio di Minecraft Signori, prima di partire col video vi ringrazio per i like, per i commenti, per i sugi e per il supporto Vi ricordo di iscrivervi al canale, mi raccomando signori abbiamo l'obiettivo di raggiungere i 2000 iscritti entro la fine dell'anno Tutto quello che voi dovete fare è semplicemente cliccare sul pulsantino per seguirmi e anche lasciare un bel like al video che fa sempre piacere Io ce la sto mettendo tutta, signori siamo quasi, siamo all'86, 87 video, non ricordo Quindi è da 86 giorni che io portavo avanti la serie e lo faccio soprattutto per voi e per ricevere il vostro sostegno Signori, cosa facciamo nel video di oggi? Allora, abbiamo le nostre bellissime enderpearl che abbiamo messo qui Ne abbiamo 7 signori, ce ne bastavano semplicemente 6 per poter aprire il portale per andare a uccidere il drago Cosa facciamo nel video di oggi? Ovvero, per andare a uccidere il drago di sicuro dobbiamo portarci... No, non sta più lottando, me l'ha ammazzato il pigman Finalmente dopo una lotta estenuante e impari perché il pigman non potrebbe difendersi Il nostro pupazzo di neve che non ha ancora un nome, se qualcuno mi vuole suggerirmi un nome sarà ben accetto L'ha ucciso, tutto buono, tutto bene e benedetto, come si diceva in siciliano, tutto buono e benedetto, signori miei Detto questo, io qua sto cuocendo un pochino di ferro, quello che abbiamo regolato nello scorso video E che tra l'altro domani, questo ferro ci servirà per fare la gabbietta al nostro pappagallo Sì, lo mettiamo dentro una gabbia, signori E non è utile lasciarlo così svolazzante casa a casa, come i gatti che hanno rotto le palle E magari troveremo un punto carino dove poter rifare una gabbia e lo chiuderemo lì dentro E una cosa brutta? No, i pappagalli comunque ci stanno dentro le gabbie, signori, quindi va bene così Ma non perdiamo il fio del discorso, cosa facciamo nel video di oggi, signori? Per andare a uccidere il drago, di sicuro ci servono le mele d'oro e le pozioni Allora, le pozioni devo andarmi a fare un breve studio perché non ricordo come cazzarola si fanno Ma per uccidere il drago ci servono le mele d'oro Quante ne vogliamo? Signore, direi di farcene un bel po' Qua ne abbiamo 23, diciamo che 23 sono un po' assai 3 già qui le abbiamo, abbiamo qui dei lingotti d'oro Che però non ci bastano, se non ricordo male a casa nostra qui, sì a casa nostra Nel magazzino non ne abbiamo più perché tutto l'oro l'ho utilizzato Per cercare di fare gli scambi con i piglin o come cazzarola si chiamano Quindi mi sa che qui in oro noi non ne abbiamo più Abbiamo 13 pezzi Che intanto mettiamo a cuocere, che non sono male 13 pezzi, ma 13 pezzi sarebbero 13 lingotti 13 lingotti sono una sola mela Quindi non ci concludiamo niente, signori Li mettiamo a cuocere, sì Però andiamo anche a recuperare Andiamo anche a recuperare dell'altro oro nel nether Sto consumando il carbone utilmente, sì Abbiamo la farm di lava, potrei utilizzare quella, sì Ma mi sono rotto le scatole Allora, piccola fortuna ce l'abbiamo Il cibo ce l'abbiamo, l'ambradan ce l'abbiamo Quindi direi, andiamo nel nether, signori E cerchiamo un poco di oro senza farci ammazzare male Mi piacerebbe anche ottenere un poco di netherite Ma quella è un po' più complicata, signori È un po' più complicata Ok, siamo nel nether e abbiamo fatto già un piccolissimo, grossissimo errore Non ci siamo portati niente di oro, signori Porca di quella paletta ambriaca Non ci siamo portati niente di oro Recuperiamo? Assolutamente no Assolutamente no Sfidiamo la sorte, signori Sfidiamo la sorte Possiamo essere tanto sfortunati che becchiamo subito tutti i pigmini che ci vogliono ammazzare Potrebbe anche essere Con la fortuna che ci ritroviamo potrebbe anche essere Allora Ci serve dell'oro Non so dove andarlo a cercare Minimamente Stiamo mettendo... Là c'è un ponticello Che forse è la strada quella che ci porta verso il portale Sì perché l'ultima volta io non ho neanche... Aspetta un attimo Ma che brutto ponticello è? Ma che brutto ponticello, signori Però andiamo Andiamo Non temiamo La paura Ok perché ci andavamo da sotto Perfetto Non abbiamo paura di queste cose di noi Noi siamo Siamo dei pro Siamo dei pro che non hanno un pezzo di armatura d'oro Siamo dei pro Pirla Se proprio dobbiamo dirla tutta Allora Ci serve dell'oro Porca di quella valetta ambriaca Ci serve dell'oro Ci date dell'oro Cortesemente Non mi vado a uccidere i piglin Potremmo anche uccidere i piglin volendo Potremmo uccidere i piglin per ottenere le pepite di oro Però possiamo tenerlo in maniera più semplice e naturale l'oro Ecco là Già là c'è uno di quei piccoli Ecco E noi non abbiamo un pezzo di oro Mannaggia a me Che ci voleva tornare un attimino a casa E fare un attimo A recuperare il nostro bellissimo Il metto che abbiamo Da parte per queste situazioni Aia Mannaggia a me Mannaggia Devi morire male Devi morire male Morire male Morire male E' morto male Mi ha droppato qualcosa? No Quindi non solo è morto male Ma pure non mi ha droppato nulla Sì Bene Tutto questo a noi serve dell'oro E non ne stiamo trovando Oh lì c'è dell'oro Perfetto Allora loro non dovrebbero dirmi niente Se prendo l'oro Vediamo No Loro non mi dicono niente Perfetto Recuperiamo Questo primo giro di oro La ne vedo dell'altro Interessante Il quarto ci serve Ma tu piglia Non mi serve per fare esperienza Già abbiamo 49 pepite E non è male come cosa signori 49 pepite Già mi sembra Un buon punto di partenza 26 blocchi 26 blocchi per raggiungere Mamma mia Mi devono far spaventare per forza Allora mi preoccupi un poco di netherrack Grazie Direi perché la netherrack Perché comunque Questa mi serve per fare Il quarto mi serve per fare esperienza Non per altro Perché Sì Preferisco Consumare la netherrack Che consumare La terra Di qua dove arrivarci Sì Sfruttiamo quest'altro blocchetto Così saliamo un poco più in alto Dai così Sali 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 Ricopriamo quell'oro Porca miseria Siamo completamente sbagliati Non è che siamo sbagliati Siamo completamente sbagliati Ok Ma porca miseria Ok Cosa è bella Fare Fare Queste situazioni Qua c'è dell'oro Altro oro No Non ce n'è Allora recuperiamo questo Uno Due Tutto sto casino Solo per due pezzettini di oro Ma sei bastardo Forte però Va bene Guarda come se avessi Accettato Dove sta il mio oro? Qui Ok Siamo a 58 pezzi di oro Vediamo quanti lingotti Mi vengono con 58 Signori Rapido calcolo Sono proprio in matematica? No Quindi Ok Sei Sei Per far una mella d'oro Me ne servono otto Quindi diciamo che ancora La nostra ricerca deve continuare Ok Va bene Effettivamente uccidendo i piglin E risparmierei un sacco di tempo Signori Uccidendo i piglin E risparmierei un sacco di tempo Oh Un lacio dell'altro oro Bello quello lì Posso lanciarmi di qua? Sì Ok Guardiamoci un attimo intorno Ci sono pericoli vari? No Ok Recuperiamo quest'oro Magari non con l'ascia Ma col piccone fortuna Dai dai Qui abbiamo fatto il jackpot Signori Tanto Guarda qua quanto ce n'è Perfetto Bello così Se non sbaglio Là ce ne stava un altro pochino pure E questo lo recuperiamo pure Dai così Ok Bello così Bello così Metti una torcina qui Facciamo lo stesso discorso Che abbiamo fatto prima Penso che già siamo Siamo abbastanza abbondanti No? Sette Quante mele d'oro Voglio portarmi col drago Il più possibile Signori Il più possibile 18 18 già E' un bel numero 18 già è un bel numero 18 già è un bel numero Però riuscissimo a trovarne Un altro pochetto Schifo non ci farebbe Schifo non ci farebbe Vediamo se ne troviamo Un altro pochino così A culo Da ricerco dell'oro Signori Allora ricerco Quanto ne abbiamo consumato L'altra volta Per quei cazzarola di piglin Non ci posso pensare Tu sei piccolo E non mi fai niente E io ti fotto l'oro Uno Solamente Quattro pepite Vabbè no Solamente due blocchetti Che non so quante pepite Saranno state Però Lo vediamo poi dopo Quello là C'è oro Qua sopra ci sarà pure l'oro Ma lì sopra ci saranno anche i piglin Che mi aspettano Ecco tipo quello Che ancora non mi ha visto Ancora non mi ha visto Signori Occhio che se mi vede E mi inizia a colpire Spangendomi nella lava Potrei abbandonare la serie E pesantemente Ecco lo sapevo Tipo una cosa di questo genere Non deve succedere Mannaggia a te A chi non te lo dice pure Casi ci tu nella lava Vaffanculo Ok Ah lì c'è dell'altro oro Perfetto signori Recuperiamo questo E qua ce n'è ancora Bello così Così a vista è ancora più bello Ok Questo Recuperiamo queste altre pepite Anche qua sopra Certo l'armatura in nederite Dà tanta sicurezza Signori L'armatura in nederite Dà tanta sicurezza Allora 29 Riusciamo a farne altre 3 Più altre 64 Riusciamo a farne Altri 10 28 28 28 sono un totale Di facciamo un calcolo così 3 mele d'oro E 3 ce l'abbiamo Siamo a 6 mele d'oro Ci basta no? Eh no No Decisamente no signori Ne voglio qualche altra Dici ma stai scherzando? No sono serio Sono serio Guardate qui Lo lasci qua quest'oro? Lo lasci qua Non lo puoi lasciare qua Te lo mette Te lo serve così Su un piatto d'argento Tu lo prendi Tu lo prendi Dai così L'oro ovviamente signori Dai così Guarda quanto ce n'è qui Bello così Ce n'è dell'altro nascosto? No Perfetto Non è che i piglin Non ci dicono niente Ne abbiamo altre 46 Un altro giro Veloce veloce Un altro giro Veloce veloce Facile facile Rapido rapido Dai 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 Che ora me ne voglio tornare a casa Dai che me ne voglio tornare a casa Che c'è il pappagallo che mi aspetta Domani vedremo di fare la gabbietta Domani vedremo di fare la gabbietta Del nostro pappagallo Qua ci sono torce Vedo oro No Quello è il ponticello dal quale siamo arrivati Ah ok Quindi siamo vicino a casa Qua c'è dell'oro Ottimo Però c'è anche della lava Che non ci piace Quindi Vediamo di bloccarla Un attimino Ok Così non mi dovrebbe più arrivare qui Speriamo che ce n'è più di uno No Mannaggia a te Ce ne sta solamente uno Girando di qua Salendo di qua Qua c'è tutta la lava di prima Niente Stiamo giranzolando sempre Dallo stesso punto Non ci siamo allontanati da casa E questa è una cosa buona almeno A sto giro non ci perdiamo signori A sto giro non ci perdiamo Anche perché La strada per il portale Ancora la dobbiamo andare a costruire signori Noi abbiamo Il portale Del nether Ma la strada che ci porta al portale Ancora non ce l'abbiamo Mi sono perso tornando signori Io ho deciso di abbandonare La strategia Del ritrovare la strada Per tornare sul portale Quindi quella poi Dobbiamo andarla a rifare Il giorno che Andremo all'avventura Non ce n'è più oro Porca miseria Dai ne volevo l'ultimo Volevo le ultime pepite Mannaggia della miseria infame Di là si scende Dai dammi le ultime pepite Porca miseria Dammi le ultime pepite Ora mo ti ammazzi piglin Ora vedi come ti ammazzi piglin Così io ottengo tutte le pepite di questo mondo Pepite Ok ce l'abbiamo Ce l'abbiamo signori Le ultime che ci servivano Dai così Ricopriamo queste E poi torniamo velocemente a casa Dai Aia Aia Mannaggia A chi non te lo dice pure Mannaggia E levati alle scatole Faccia Mangiamo E recuperiamo Queste di qua Uuuuh A voglia signori Va bene Jackpot Jackpot Signori Abbiamo tutte le pepite che ci servono Decisamente Si Ehm Puff Riusciamo ad avere Un bellissimo Un bellissimo giro di Eh Ho sbagliato Però Mannaggia Un bellissimo giro di mele d'oro Signori Il drago non ci farà paura Il drago non ci farà paura Decisamente no Decisamente no Cosa sto facendo Non lo so nemmeno io Signori Sto cercando di Raccimolare il raccimolabile 42 lingotti d'oro Ci bastano E ci avanzano Signori Va bene Torno a casa Facciamo le nostre mele d'oro E ci vediamo a fine video Signori Mi taglio questa parte di qua Perché rompe il calza anche a me Dove Dove tornare a casa Però Ehm Purtroppo è da fare E quindi Se non torniamo a casa Non possiamo fare le altre cose Da dove cazzarola venivo io Da qua Aiai Siamo lanciati così In maniera sportiva e decisa Forse venivo di qua Io ricordo Si Il lago di lava Perfetto si A questo punto No non faccio più il taglio Perché Non ha più il minimo senso Ehm Aiai Mannaggia a me E a quando parlo troppo Ok Vabbè che abbiamo tutto in nederite Quindi non dovremmo avere Un problema di Se magari la smetto Perché non vorrei prendere il ponte Mentre sto andando a fuoco Ci manca che Mi si lagga un attimino Mi fa un Un movimento sbagliato Con Uuuuh Si Mi ha attraversato Un brivido freddo La schiena Che voi non potete immaginare Voi non potete immaginare Però ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Cadavamo lì E Non c'era da ridere C'era da 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 Mandare Prendere il computer E buttarlo fuori dalla finestra Proprio decisamente Il nostro portalozzo è qui Lo attraversiamo Taglio Questo Passaggio Da una dimensione all'altra E ci vediamo No Non taglio un cazzo Signori Mi piace così Mi piace così Mi piace non tagliare niente In questo video Che durerà 8000 ore Però va bene Però va bene Ok Allora Abbiamo lingotti Abbiamo le mele Non abbiamo paura Di usarle Signori Mettiamo le melozze qui Mettiamo i nostri lingotti Qui Perfetto 5 mele d'oro Cazzarola signori 5 mele d'oro Ci bastano 5 e 3 ne avevamo Sono 7 mele d'oro Se non riusciamo a sovvivere Con 7 mele d'oro Dico Possiamo portarci pure Qualche carota Volendo Volendo potremmo portarci Pure qualche carota Ma penso che 7 carote d'oro Ci bastano E ci avanzano Tra l'altro Questa qua Proiettile Proiettile Freccia Perforazione 1 Eppure incantata Hai capito Siamo stati fortunati Abbiamo peccato La balestra incantata Detto questo signori Io vi ringrazio Vi ringrazio per i like Per i commenti Per i raggiunti E per il supporto Noi ci vediamo sempre qui Sul canale Per un prossimo appuntamento Signori Le mele d'oro Ce le abbiamo Siamo pronti Ci avviciniamo sempre di più Alla spedizione Per uccidere il drago Che sarà nell'episodio 90 Se tutto va bene Bella raga Ciao